Vai! Le fitte del pilloro ce mi offre la Valboro E come ti senti? Super ladrina Come ti chiami? Dato a Pesagli il 28 8 del 74 Presidente in via Bordelone numero 36 Sei sicuro? Sicurissimo Quando l'ha provata l'abbiamo dato al culo? Vai! Sicuro? Solo quando dormivo Che ti fecerà? Mi fecerà male Lo culo come ti hanno fatto? Onzo e l'onzo Mario com'è te? Brutto La scipia Domenico? Brutto Come uno corilla Mino? Mino è meglio che non ti parlo Che ce l'è? Non ti parlo E come mai? Dimmi E' nati tanti per un magnole Non è buono E' buono o no? E' buono Sicuro? Sicuro Ci ti dato 100 euro? Ci mi dato 200 euro Ci no? Ci sono pure mai qui Basta Ahahahahah E' buono E' buono